Blackout. Davvero non si è più preparati a dover riesumare candele o pile dai cassetti per fare un po' di luce, tanto più in piena estate. Ma ieri sera, attorno alle 21.55, le luci del golfo di Policastro si sono improvvisamente spente. Tutte senza soluzioni di continuità, da Praia Mare a Camerota. La corrente elettrica è improvvisamente mancata, c'è chi ne ha approfittato per uscire di casa, trovando però un altrettanto paesaggio buio ad attenderlo, chi si è fatto prendere dalla preoccupazione, soprattutto quando non è stato immediato il riallaccio, chi è intasato i centralini dell'Enel per segnalare il fatto. Alla fine, dopo una ventina di minuti, le luci e gli elettrodomestici si sono pian piano riattivati, prima a Palinuro, San Giovanni Appiro, poi a Vibonati e in ultimo, ed erano già le 22.40, a Policastro e a Sapri. Nella cittadina della Spigolatrice alcune zone sono rimaste ancora per qualche minuto in attesa di veder riallacciati i servizi. Oggi invece resta il giallo di quanto accaduto. Un guasto all'alta tensione è il motivo attribuito al blackout. Un servizio, quello dell'alta tensione, che non fa capo all'Enel, che pertanto ieri sera non è intervenuta, ma a un'altra società, la Terna SPA. Non è chiaro se il guasto sia avvenuto in loco o altrove e abbia avuto poi ripercussioni proprio sul golfo di Policastro. L'Enel ha inviato una richiesta ufficiale per conoscere che cosa sia accaduto e dove è stato rinvenuto il guasto. Al momento però non si sa nulla. Resta solo l'immagine amara di quest'estate nel golfo di Policastro, senza corrente, senza acqua, con il maltempo dilagante e le previsioni sballate che fanno il resto.